Alessandra Gennari, professoressa ordinaria di Oncologia Medica presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell'Università del Piemonte Orientale, è stata nominata per il quadriennio 2024-2028, faculty member di ESMO, la Società Europea di Oncologia Medica. La nomina della professoressa Gennari è l'ultimo atto di una... Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, a piedi mulera.